Allora Andiamo avanti Siamo verso la fine Allora qua cambiamo la descrizione Perché Sbagliata Allora Parte 19 Ok Allora Andiamo avanti Via Andiamo avanti Andiamo avanti Ok Andiamo avanti 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 Ciao Johnny Ciao buona serata Buona sera Buona sera Buona sera Buona serata 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 Grazie a tutti. 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 ma... Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. No, no, sono impegnato qua. Ho sconfitto un boss che credevo fosse... Forse... No, no, sono impegnato qua. 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 No, no, non è... E andiamo, andiamo. Ma i nemici qua come sono, aspetta che voglio vedere. Ah no, non sono corrotti. Ah no, non sono corrotti. Sì 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 Tu sei qui. È un rilievo, essere in un'escritto. È un'escritto. È un'escritto. È buono essere liberi. Oh, dimenticare, dovrei ringraziare a te prima. Quando hai venuto, ti ricordi di me del Hound. Probabilmente perché hai due di te salvarono la mia vita. Grazie mille. Tu sei qui. È un rilievo. È buono essere liberi. Oh, sorry. Quando hai venuto, ti ricordi di me del Hound. Probabilmente perché hai due di te salvarono la mia vita. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Tu sei qui. È un'escritto. È un'escritto. È un'escritto. È un'escritto. È un'escritto. È un'escritto liberi. Oh, sorry. Devo ringraziare a te prima. Quando hai venuto, ti ricordi di me del Hound. Probabilmente perché hai due di te salvarono la mia vita. Grazie mille. 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 I alchemisti stavano il tutto, tutto mentre stavamo qui. Non ho aspettato un'attacco sul hotel, la possibilità non è mai riuscita la mia mente. Ma io credo che possiamo trattare loro. Il mio portretto, dietro lì c'è un passaggio a loro base. Il hotel ha avuto un'accommodazione con i alchemisti. C'era un'accommodazione con il piano in mia sala. L'accommodazione con il passaggio segretto. E tu puoi salvare, Geppetto. Ok, adesso andiamo avanti. E tu puoi salvare. La mia sala è passata in un'accommodazione con il piano in un'accommodazione con il piano. E tu puoi salvare. E tu puoi salvare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ma non era morta. Ma non era morta lei? Che era andata a vedere dove era e poi è stata uccisa. Non era morta lei? Non era morta. Non voglio parlare. Non voglio parlare. No, che è un bug. Non era morta. Non è morta. Non era 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 morta. Non è morta. Non è morta. Non è morta. Ah no, torniamo indietro un attimo sbagliato. Grazie a tutti. Andiamo di sopra. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. Sir Polkham. Sir Polkham. Apparently, I must remain in this room. I hope to be careful out there, won't you? The hotel will... Apparently, I must remain in this room. I hope to be careful out there. I refuse to be able to stream... Hello? Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere una cosa. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. I can tell, but now it's time for me to bid you farewell. Io falava della benigni. Io falava della benigni. Sì. Grazie a tutti. 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 Oh! Grazie a tutti. Oh! 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 Oh!